Dal nostro negozio vi posso presentare i nostri gioielli che in realtà non hanno solo una struttura estremamente importante, ma comunque sono tutti oggetti artigianali, anche se ad un costo estremamente giusto. Dai 10 ai 100 euro possiamo esaudire tutti i vostri desideri facendo creazioni anche personalizzate su vostra richiesta e per i vostri momenti più importanti. Di seguito vi possiamo mostrare le nostre creazioni che poi possono essere personalizzate. Considerate che i nostri oggetti, anche se in argento, hanno comunque racchiuso all'interno i particolari di un oggetto importante e artigianale, come la gioielleria Bianciardi è conosciuta nel territorio. Come potete notare qui abbiamo delle lettere, in questo caso in oro rosa, con un piccolo diamante. Hanno comunque un costo estremamente contenuto e sono però di grande gusto, anche da poter abbinare, abbracciarli in argento, così che creiamo un gioiello sì prezioso, ma anche molto originale. Sotto abbiamo degli anelli che abbiamo comunque costruito in argento e oro a 18 carati. Questi possono essere personalizzati come il cliente desidera, sia in oro giallo che in oro rosa, oppure, come potete notare, semplicemente tutti in argento, potendo così dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere il prezzo o il tipo di regalo per il momento più appropriato. Più avanti, sempre nello stesso stile, facciamo i bracciali, bracciali rigidi, sempre tutti in argento, allo stesso modo possono essere lo stesso personalizzati, introducendo in questi stessi bracciali delle parti in oro, più o meno importanti, in modo da poter veramente venire incontro a tutte le vostre esigenze del momento. Costruiamo anche dei bracciali con lettere, tutti in argento, con zirconi. Come potete notare, ci possiamo scrivere sopra non solo una frase scontata, ma il vostro nome, oppure qualsiasi cosa che voi desideriate inserire su questo splendido bracciale. È possibile personalizzarlo sia tutto in argento, oppure, come prima vi dicevo, sempre con parti più importanti, secondo le vostre esigenze. argento e oro, ma anche lo smalto, che comunque sia è un prodotto di grande qualità e di difficile realizzazione. Noi, infatti, nel nostro laboratorio, eseguiamo anche tutte le lavorazioni con smaltature particolari e personalizzate. Qui abbiamo un esempio, volendo usare un po', in queste strutture rosse, con parti pink maculate di marrone, di nostra invenzione, secondo una nostra iniziativa, dettata dall'originalità del momento. Come potete vedere, più avanti, oltre al rosso, possiamo vedere l'accostamento del nero, sempre insieme al pink, per dimostrare che comunque è possibile realizzare tutto ciò che voi potete desiderare. Comunque, facciamo anche oggetti su questo stile, ma molto più semplici, che possono essere dei semplicissimi orecchini, oppure dei pendenti, dove abbiamo gli smalti di tutti i colori. Ve ne mostriamo qui un paio in rosso, ma considerate che possiate farlo nel colore che più volete. Questo è un gioiello che sta avendo un grandissimo successo, anche perché la campana è sempre stata considerata amuleto di grande fortuna e, come potete vedere, realizzato in rosso e comunque sia su tutte le tinte che voi preferite, dal bianco al blu, secondo le vostre esigenze. Come poi potete notare, c'è comunque la possibilità di personalizzare tutto ciò che noi abbiamo, dal semplice bracciale, dove possiamo cambiare la tipologia delle pietre, sia nel colore, sia nei simboli, che nelle forme, che nelle dimensioni, cercando di darvi un prodotto di qualità, ma ad un costo estremamente vantaggioso. Più in alto potete vedere dei portachiavi, anche questi personalizzati, dove possiamo incidere le vostre iniziali, i nomi, tutto ciò che a voi è più caro.